Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di DPS9900CAPER Oggi vi spiegherò come rimuovere le pubblicità da YouTube, da qualsiasi sito e anche da Facebook Quindi rimuovere tutte le vostre pubblicità, tipo queste qua Quando noi vogliamo vedere quelle da Style ci si presenta davanti questa pubblicità Ecco, oggi vi voglio vedere come rimuovere questa pubblicità o anche la pubblicità da altri siti Quindi andiamo sul clic di iscrizione e ci si apriva questa pagina Facciamo Add to Chrome E aggiungi E una volta finito potremo notare che aggiornando la pagina Non avremo più la pubblicità Ok, grazie a tutti per aver visualizzato questo video Visitate il nostro sito web www.dds9900officialsite.intervista.org E alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti